bella raga dal vostro grande capitano napoli benvenuti in questo nuovo video e sempre forza napoli meno uno a napoli udinese valevole per la 34esima giornata di serie a gattuso si è molto arrabbiato per l'atteggiamento voi sapete bene del napoli soprattutto nel secondo tempo della partita giocata mercoledì a bologna finito 1 1 dove nel finale abbiamo anche rischiato di perdere probabilmente domani il napoli giocherà la formazione migliore con meretti in porta il difensore di centrale dovrebbe tornare colibali verrà affiancato uno tra manolas e maximovic di lorenzo squalificato quindi adesso ci sarà isai sinistra ma lui l'italia del centrocampo dovrebbe essere fabio e luiz diego dame zilis che il tridente d'attacco secondo me dovrebbe essere composto da mertens calesione e de lorenzi insomma speriamo una bella prestazione del nato una bella strigliata un bravissimo gattuso crede che bisogna sempre 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 impegnarsi al massimo appunto perché manca ancora tanto a barcellona napoli carotto di agosto la partita delle partite bisogna cercare di arrivarci il meglio possibile quindi ci si aspetta una bella prestazione da parca del nostro napoli ed possibilmente una vittoria del nostro napoli ed anche insomma una bella prestazione volevo di nuovo oggi compio gli anni e volevo anche rifare gli auguri come ho fatto ieri sera francesco che come capitan napoli oggi compri anni come me tanti auguri francesco e volevo fare anche un saluto a mio iscritto giovanni un carissimo saluto a mio iscritto me l'ha chiesto l'ho fatto molto volentieri di nuovo un saluto a giovanni mettete un bel like a questo video chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi iscrivetevi al mio canale un buon proseguimento di giornata dal vostro grande capitano napoli ciao